Gli scontri tra forze di polizia e studenti a Pisa e Firenze, al centro del dibattito nella seduta del 28 febbraio in consiglio regionale, dove arrivano due emozioni, una della maggioranza e del Movimento 5 Stelle, che poi sarà approvata con 22 voti favorevoli e 10 contrari, ed una delle minoranze, Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia, respinta con 22 no e 11 sì. Nel documento approvato si esprime ferma condanna per il grave accaduto e l'auspicio che non si ripetano approcci e pratiche operative per la gestione dell'ordine pubblico come quelle verificatesi in Toscana e al tempo stesso si chiede impegno alla giunta regionale a attivarsi nei confronti del governo perché sia fatta in tempi rapidi chiarezza e vengano spiegate le ragioni con particolare riferimento al ruolo svolto dai responsabili ai diversi livelli. Doveroso prendere posizione da parte del consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa. È un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze, la Toscana non è questo. Ovviamente chiediamo chiarezza, chiediamo di andare fino in fondo sulla questione, qualcuno ha sbagliato e come tale deve essere perseguito. Chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia appunto che in questo momento a Pisa ma anche a Firenze in tutta la Toscana direi a livello nazionale sta rischiando di venire di mancare. Dopo il lungo dibattito la minoranza avanza una richiesta di sospensione momentanea della seduta per trovare un possibile accordo su un documento unitario proposta respinta dalla maggioranza. Secondo l'opposizione le condizioni per trovare una sintesi e quindi proporre un atto comune sui gravi fatti accaduti a Pisa e Firenze ci sarebbe stata. Le proposte sono state due in effetti, respinte tutte e due dal PD, quindi continua questa volontà di strumentalizzare questi fatti. No, non c'è nessuna questione di strumentalizzazione politica, non c'è nessun riferimento al governo, c'è la costazione oggettiva di atti gravi. Nel documento bocciato, prima firmataria la consigliera Elena Meini della Lega, si riaffermava in primo luogo l'importanza del rispetto delle regole per tutti gli attori della vita pubblica e si ribadiva il diritto a manifestare le proprie idee per tutti in ogni circostanza e su ogni argomento all'interno di una cornice di legalità. Il documento esprimeva vicinanza a quegli studenti che manifestavano pacificamente alle loro famiglie e agli uomini delle forze dell'ordine che ogni giorno si impegnano per garantire a ciascuno la possibilità di esprimere la propria opinione, così il capogruppo di Fratelli d'Italia. Tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi, anche chi manifesta, che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, cosa che sicuramente la polizia farà, che un manifestante che sputa in faccia un poliziotto non è un manifestante pacifico e è lì per manifestare la propria idea. La differenza sostanziale oggi è che se un poliziotto sbaglia è un poliziotto, quindi c'è qualcuno che avvia un'azione disciplinare che lo può portare a avere una condanna. Se un manifestante sbaglia, purtroppo, apre Facebook e trova leader politici che si spendono per fargli complimenti e fargli l'occhiolino. Chiarimento sulla gestione dell'ordine pubblico e sulle eventuali responsabilità politiche, chiede il documento approvato. Vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere. L'Aula approva con 21 voti favorevoli, PD, Italia Viva e 13 contrari, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, il bilancio di esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale. Un bilancio che arriva con notevole ritardo come sottolineato dalla stessa presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Lucia De Robertis. La richiesta unanime del Consiglio è di allineare i bilanci all'anno effettivo. C'è assolutamente troppo ritardo e su questo dobbiamo lavorare perché i bilanci devono essere portati nell'anno corrente come è giusto e corretto che sia. Quindi lo abbiamo approvato, però faccio un appello che si cominci ad accelerare per portare i bilanci poi nell'anno corrente come è corretto e come peraltro le leggi richiedono. Abbiamo chiesto più volte al presidente Gianni e abbiamo proposto, e gli altri commissari della Commissione Ambiente l'hanno sottoscritto, quindi anche la maggioranza di riallineare per quanto possibile l'andamento del bilancio della regione con quello degli enti e delle società partecipate perché altrimenti il Consiglio regionale non è nelle condizioni naturalmente né di dare degli indirizzi cogenti né tantomeno di verificare come vengono spesi i soldi dei toscani. In sintesi i numeri del bilancio vedono un valore di produzione pari a 4 milioni e 500 mila euro con un utile di esercizio che supera i 640 mila euro. Nel suo intervento il presidente Eugenio Gianni ha rivendicato il ruolo e l'importanza dell'autorità portuale e regionale anche in chiave degli investimenti sul porto di viareggio dal mercato ittico sino al fondamentale impianto che consentirà la raccolta della sabbia per evitare in futuro altre criticità all'ingresso del porto. Ieri in aula ovviamente è venuto fuori il tema del porto di viareggio su cui la regione sta facendo importanti investimenti, penso 6 milioni sul sabbia d'otto ma non solo, c'è tutto il mercato ittico che deve partire, su cui c'è anche un finanziamento importante del PNRR e su cui stiamo lavorando. È di tutta evidenza che ci deve essere una collaborazione fra Enti, la regione, l'autorità portuale e il comune di viareggio. Stiamo lavorando in questo senso perché il porto di viareggio, ricordo, è importantissimo non solo da un punto di vista turistico, i cantieri navali, ma c'è un'attività come quella della pesca che vale il 30% dell'attività ittica toscana. Non la possiamo trascurare, il porto deve essere messo in sicurezza, anche se ricordo, lo ricordava ieri anche l'opposizione, questi sono problemi che ci portiamo dietro da oltre 100 anni. Io credo che in questi tre anni si sia fatto molto, c'è da fare ovviamente ancora di più ma la strada credo sia quella giusta. Bene questo aspetto di conferma, di sostegno all'autorità portuale da parte del Presidente Cianni, al quale però ho fatto presente che a viareggio c'è un sindaco e un'amministrazione che addirittura promuovono e fanno approvare una mozione che chiede la cancellazione dell'autorità portuale e c'è una situazione, quello il Presidente Cianni non l'ha detto ma gliel'ho ricordato, dove abbiamo ancora una carenza del ruolo di segretario dell'autorità portuale che è il motivo messo per scritto dallo stesso commissario attuale per cui i ritardi di questa autorità portuale di difficoltà sicuramente concorre. Il sabbiodotto avrebbe già dovuto essere realizzato, in realtà siamo in ritardo di molto e i soldi che sono stati necessari per intervenire dopo le mareggiate con il dragaggio straordinario, ricordiamo i pescherecci si sono arenati con gravi rischi per le persone soprattutto con il blocco dell'attività economica, sono stati pagati addirittura imputando una parte dell'utile del 2021, come se quei soldi fossero rimasti congelati per tre anni. Il Consiglio regionale ha approvato gli indirizzi sul documento di programmazione strategica di sistema del Mar Tirreno Settentrionale, un atto finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa fra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La dimostrazione della qualità anche della proposta dell'analisi che l'amministrazione regionale mette in campo anche nel rapporto, nel confronto con il Ministero delle Infrastrutture e questa diciamo speriamo sia anche una occasione per far sì che il Governo, il Ministero delle Infrastrutture possa davvero passare dalle parole ai fatti. Faccio riferimento ad esempio ai soldi che sono stati tolti alle connessioni ferroviarie ma anche a tutta un'altra serie di provvedimenti dove si riscontra una serie di impegni a parole del Governo e delle forze che lo sostengono e che si scontra invece con le istanze necessità dei territori che attraverso anche questa elaborazione dimostrano una grande precisione e soprattutto di avere le idee molto chiare. La Regione le idee chiare ce l'ha, ce l'hanno gli enti del territorio, l'autorità di sistema portuale, speriamo davvero che il Governo riesca appunto come dicevo anche in questo ambito di uscire da una sostanziale incertezza e essere molto concreto. L'atto ha visto 21 voti a favore, la maggioranza e 10 di astensione Lega e Fratelli d'Italia. È un piano strategico che deve fare l'autorità portuale del Tirreno settentrionale per i maggiori porti, in modo particolare riguarda alcuni porti dell'Elba ma soprattutto Livorno e Piombino, sia per le aree contigue alle aree portuali sia per i canali viari e infrastrutturali principali cioè ferroviari nei confronti da e verso il porto rispetto all'interno della Regione. È quindi un atto strategico che presenta una conoscenza abbastanza dettagliata del territorio ma che non è immediatamente precettivo, cioè non stabilisce l'utilizzo dei suoli ma che dovrà poi trovare attuazione attraverso i piani portuali e attraverso l'attività pianificatoria dei comuni. Un passo avanti comunque per portare la Toscana nel terzo millennio anche dal punto di vista dei collegamenti da e verso il mare. Sicuramente i giovani e le giovani sono molto curiosi, molto più delle persone della mia età, quindi sicuramente creare una connessione sarà più facile. Sarà importante far capire loro l'importanza proprio di questi temi che spesso sono un po' sottovalutati e mancano nei programmi dell'offerta formativa. Ampia partecipazione al teatro della Compagnia di Firenze per l'iniziativa Hate Speech e violenza di genere. L'attrice Carlotta Vagnoli ha incontrato gli studenti delle scuole superiori della Toscana nell'ambito del progetto Trasformare azioni per il contrasto alla violenza maschile contro le donne nel sistema educativo. Si è parlato anche del ruolo dei social. I social non sono direi male, sono un posto come tutti gli altri del mondo in cui viviamo, quindi si replicano anche lì le realtà che abbiamo purtroppo assimilato così bene, ahimè. Sono però anche un posto dove si può trovare una certa soluzione. Ci sono tanti profili di divulgazione, ci sono i giornali che iniziano a comprendere come fare anche divulgazione tramite i loro profili. Possono essere anche sportelli di aiuto, ci sono pagine che possono essere utili appunto per ragazze e ragazzi per chiedere consigli, per avere un po' di ascolto. Quindi i social si stanno un po' adattando a questa cosa, stanno cercando di essere anche la soluzione nonostante offrano sicuramente dei grandi svantaggi dall'altra parte. A promuovere la giornata anche la Commissione Toscana per le pari opportunità. Noi vogliamo che questo progetto sia fatto sicuramente per loro ma soprattutto con loro. Dovrebbero imparare ad apprendere quali sono le diverse forme di violenza, saperle riconoscere e sapere riconoscere quali sono le relazioni positive ma anche quelle negative, quelle che oggi si chiamano tossiche perché la violenza si annida a mille forme e quindi è bene che loro la riconoscano, cerchino di difendersi e anche di difendere i loro coetanei perché solo in questo modo imparando a costruire delle relazioni basate sul rispetto, sulla qualità delle relazioni, sulla libertà della coppia degli individui, solo in questo modo si può provenire qualsiasi forma di violenza. Iniziativa con in primo piano il Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Abbiamo già dei progetti da tempo su cui siamo impegnati, il patentino digitale che proprio serve per formare i ragazzi a una navigazione su internet consapevole e sicura e poi c'è un tema generale che appunto ci vede impegnati con tutti i Corecom italiani nel coordinamento nazionale. Proprio recentemente a Matera abbiamo firmato un patto con il garante per la protezione dei dati personali, il garante della privacy, proprio a tutela dei minori su tutte le attività online. In questo senso è un impegno ulteriore, quello di questa mattina che portiamo avanti ma è un momento di un percorso che ci vede impegnati per quanto ci riguarda e per le nostre competenze. Lavoriamo con le studenti e studentesse perché le nuove generazioni sono abituate a contrastare gli stereotipi, dice il Vicepresidente del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati. C'è un dato statistico che quando ci sono casi molto grossi, ad esempio dei femminicidi, aumentano le richieste d'aiuto. Questo perché si porta all'attenzione dei media, o dei media che dir si voglia, il caso. Quindi le persone sono più consapevoli, i casi non sono diminuiti, viene sdoganato il problema, però viene sdoganato per il momento della notizia. La formazione serve a questo, serve a dire che non è un problema marginale. Oggi parleremo di hate speech, quindi di discorso d'odio. La violenza parte da quello. Se pensate che è proprio sdoganare il discorso d'odio, che incita poi lo sdegno anche sociale, che sdogana anche la violenza. Oggi fanno bene a chiederci che noi miglioriamo i nostri servizi e io sono qui per dire che noi ci siamo e non ci volteremo dall'altra parte. Così il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto al convegno più sano e più eco organizzato dallo SPCGL a Firenze. Un confronto che ha ribadito come la Toscana sia tra le regioni più performanti in tema di sanità, ma non per questo esente da criticità. Ci aspettiamo, dichiara il Segretario generale dello SPCGL Toscana, Alesso Gramolati, che il sacrificio di lavoratori dipendenti e pensionati arrivato con un'addizionale IRPEF più salata, venga ripagato attraverso migliori servizi e costi equi. Noi continuiamo a chiedere con forza al Governo nazionale di portare le risorse per la sanità ad almeno il 7,5% del PIL, come abbiamo chiesto con la raccolta firme in pazienti che ha superato 120.000 firme e la restituzione del payback. Problematiche che si vanno ad aggiungere alle note liste di attesa che risultano sempre, per così dire, poco performanti. Ma criticità sottolinea ancora il Presidente Mazzeo che suona l'attenzione degli amministratori e stiamo facendo tutto il possibile perché appunto la sanità sia più equa e accessibile a tutti in tempi brevi senza volgere al privato. Più sani più equi è la nostra idea di sanità toscana. Più sani vuol dire lavorare perché ogni cittadino indipendentemente dalla sua età, indipendentemente dal territorio in cui viva possa avere gli stessi diritti, possa avere le stesse prestazioni, possa avere la stessa prospettiva di vita. La sfida è quella di andare sempre più sul territorio, la sfida è quella di definire politiche sanitarie di prossimità, di aprire dei luoghi in cui un cittadino che va al pronto soccorso con codice bianco o verde possa essere accolto, gli possano essere date risposte rapidamente e lo possa fare il più possibile vicino a casa sua. Questo aiuta chi ha problemi più seri ad avere un accesso più veloce al pronto soccorso, è un cittadino che ha questioni a cui attende risposta di poter essere sostenuto dal sistema sanitario. E la sfida del futuro è una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. iscriviti al canale